ho collegato tutta l'unità di sinistra lampadine in serie multimetro sulla tensione in uscita dopo le lampadine diamo tensione lampadine accese piccola corrente assorbita 180 volt la tensione residua dopo le lampadine proviamo ad accendere lo strumento abbiamo il fenomeno di prima ciao a tutti e benvenuti laboratorio oggi il mio ringraziamento va a tutti i sostenitori del programma patreon che aderiscono appunto a questo programma di supporto al momento ce ne sono 365 attivi ma sono passati nel programma circa 700 persone la cosa mi rende molto contento perché significa che l'entusiasmo elettronico si sta diffondendo grazie al programma patreon riesco a tenere in piedi il canale youtube che vi assicuro è qualcosa di molto impegnativo specialmente se non lo si fa come unica attività i membri patreon ovviamente possono beneficiare di tutti i contenuti fuori linea in anticipo qualche retroscena e anche sconto sui kit ovviamente veniamo al video di oggi si tratta di un video riparazione come sapete impiego abbastanza tempo per realizzarlo perché ogni riparazione ha sempre degli inghippi e non riesco a garantire dei tempi certi settimanalmente come prevede il programma di youtube dunque inizio con una riparazione e poi piano piano riesco a pubblicarla è il caso di questo alimentatore titi che ci è stato spedito da andrea ghirardi della provincia di milano questo alimentatore ha già fatto saltare il fusibile due volte perché andrea ci dice che durante una movimentazione una clip di un dissipatore si è staccata ed è andata in giro a fare guai ha provato a sostituire qualche componente ma l'alimentatore continua a manifestare il problema quindi come sempre con la massima accortezza cercheremo di alimentare l'oggetto andremo alla caccia del guasto e cercheremo di risolverlo rimanete fino alla fine del video per sapere come è andata a finire e nel frattempo vi auguro una buona visione andiamo a recuperare l'alimentatore alimentatore tty cpx 400 dp è un duale 420 watt massimo 60 volt 20 ampere veramente un bel oggetto in laboratorio andrea ci dice che alla connessione con la rete elettrica salta il fusibile ha fatto un'indagine all'interno ha trovato un po di frammenti di mollette che tengono tipicamente i semiconduttori attaccati ai dissipatori questo è il pannello posteriore accetta tensioni da 110 volt a 240 volt alternati realizzato in inghilterra abbiamo la connettività tramite porta ethernet seriale e usb e anche gpib qui abbiamo disponibili le due uscite quando abbiamo guasti che fanno saltare il fusibile prima cosa da fare inseriamo una lampadina in serie e diamo tensione se ci sarà un corto circuito una sovracorrente si accenderà la lampadina che farà dal limitatore di corrente e non si creeranno ulteriori guai ma soprattutto non salteranno le protezioni a monti della 230 vai tutto spento mi viene da dire che il fusibile era saltato e poi non è stato ripristinato procediamo l'apertura dell'alimentatore ho trovato questa documentazione settembre 2023 spostato per fare pulizia sul banco le mollette sono difettose cadute sulla scheda in basso hanno messo in corto i piedini del raddrizzatore vedi foto sostituito ma senza successo questa è la foto abbiamo una freccia probabilmente qua è avvenuta la sostituzione diamo un'occhiata dal vero ecco come si presenta direi molto ordinato abbiamo i due canali esattamente gemelli con due dissipatori e un dissipatore centrale qui sotto riconosciamo i grossi elettrolitici quindi direi che la parte di raddrizzamento sulla 230 volte qui sotto qui sul lato posteriore si intravede nella feritoia il fusibile dunque svitiamo ora la scheda laterale e la superiore per accedere alla mainboard togliendo le viti sul posteriore e sfilando la scheda dal connettore accediamo alla mainboard sul fatto che si è saltato il fusibile direi che non ci sono dubbi è proprio esploso abbiamo solo i due mozziconi adesso li togliamo per scollegare del tutto la scheda devo togliere questi due dadi i fili infatti arancione nero arrivano direttamente saldati su questa scheda al posto del fusibile ho inserito una resistenza corazzata 22 ohm 50 watt di modo che così potremo leggere la corrente che fluisce tramite questo multimetro posizionato proprio a cavallo della resistenza alimentiamo con 230 volt sempre con la lampadina in serie di modo che se per caso fosse ancora in cortocircuito senza questa scheda al limite accenderemo la lampadina e limiteremmo comunque la corrente diamo tensione lampadina accesa 8 volt su 22 ohm misuriamo la tensione alternata che diamo all'alimentatore ossia a valle delle lampadine 8 volte 44 quindi praticamente questa tensione cade tutta sulla resistenza da 22 ohm significa che abbiamo proprio un corto secco la situazione è la seguente 230 volt due lampadine in serie misuriamo qua 8,4 volt ma misuriamo la stessa tensione qua sulla resistenza da 22 ohm questo significa che il nostro alimentatore fa vedere all'alimentazione un cortocircuito ho rimosso anche la seconda scheda sezione dell'alimentatore e noto questa freccia gialla col puntino e questo deve essere il semiconduttore che ha sostituito andrea ripeto il test lampadina senza questa seconda scheda come potevamo scommettere si accende nuovamente questo potrebbe voler dire che il guasto è localizzato nella mainboard e le due sezioni forse si sono salvate credo che questo di due sia già stato sostituito è un diodo anzi un doppio diodo che insieme a di uno concorre al raddrizzamento della alternata in ingresso ci troviamo in uno di quei fortunati casi in cui abbiamo il service manual quindi schema dalla 230 in ingresso filtro IMI con bobina di modo comune doppio stadio anzi triplo stadio ancora condensatori di filtro ecco qua questo è il raddrizzatore a onda intera di 1 di 2 abbiamo il terminale centrale che è anodo e catodo dei due diodi andiamo a verificare semplicemente col tester se vediamo le giunzioni andiamo col nostro guffetto fluc 89 quarto a vedere le giunzioni allora dal terminale 3 a quello centrale a corto al terminale 2 e il terminale 1 abbiamo la giunzione fra il terminale 3 e il terminale 2 e invece sembrano sembra che sia in corto vediamo di 1 terminale 3 terminale 2 corto anche qua terminale 2 terminale 1 buono due di odi rotti su quattro entrambi i diodi sono di dsp808 a 8 ampere 800 volt di rrm per ogni diodo hanno il problema appunto fra il piedino 2 e il piedino 3 cioè questo diodo sembra essere andato in corto circuito mentre l'altro no a livello di schema elettrico dunque vediamo un bel corto che va dal pin 2 di questo diodo si richiude qua e se ne va via quindi l'alternata avere proprio un corto circuito per rimuovere la mainboard bisogna svitare queste viti che hanno un problema nel senso che in un paio di casi li ho trovate spanate e l'unico modo è stato rimuovere con la punta del trapano questa qui e questa qua con molta delicatezza sono tenere poi vengono via durante queste operazioni è fondamentale tenere da parte le viti e fare tantissime foto di tutto quello che si è smontato possibilmente indicando con le dita i connettori il verso perché potrebbe essere non così facile eseguire il montaggio al contrario ho dissaldato d2 e d1 d2 era stato sostituito con questo package un po più moderno ma è sempre un dsp808a d1 invece è originale ha ancora il package to220 quello che sospetto è che è stato sostituito solo d2 ma anche d1 aveva un diodo in corto o meglio il guasto originario di d2 ha portato in corto anche d1 e dunque sostituendone solo uno il problema si è ripresentato con la treccina ho stappato le pad sono un grande fan della treccina e poi pulizia con alcol isopropilico in questa modalità volante essendo sicuri che ci siano gli isolamenti dappertutto le parti metalliche non devono toccare assolutamente la carcassa facciamo il test sempre con la lampadina per vedere se senza i due componenti si accende ancora pronti vai lampadina spenta quindi non abbiamo più questo mega assorbimento che probabilmente era dovuto ai diodi per i componenti in sostituzione ho cercato nei miei cassetti ho trovato dei doppi diodi sono degli ultra fast switching solo che hanno una tensione troppo bassa 200 volt di vrrm poi controllando nel pacco che mi ha spedito andrea ho visto che c'era anche questa bustina di mauser con esattamente i diodi in sostituzione difatti il primo era stato sostituito l'unica differenza è che il package è un to 263 un d2 pack quindi sarebbe per smd però adattando i reofori semplicemente saldando e allungandoli questo package potrebbe essere utilizzato in sostituzione del to 220 la cosa importante è fissarlo bene al dissipatore e far fare un buon contatto sulle pad sul dissipatore abbiamo anche l'isolante termico che ha ancora le tracce dei vecchi to 220 lo tagliamo in questo punto e lo sostituiamo con uno nuovo con il filo di ramme stagnato ho ricreato i tre reofori ho messo in pista i nuovi diodi con perm pad nuova un pochino più spessa perché il package è leggermente più sottile di un to 220 ho usato due clip max 10n fanno una bella forza dobbiamo essere sicuri che la dissipazione termica sia perfetta siccome non possiamo sapere se ci sono ulteriori guasti che hanno causato la rottura dei diodi ci andiamo con molta calma e alimentiamo con il variac lampadina in serie resistenza al posto del fusibile 22 ohm sulla quale poi leggiamo la tensione per avere un'idea della corrente che scorre la scheda è appoggiata in questa maniera volante è tutta isolata e quindi siamo tranquilli partiamo con il test alziamo la tensione piano piano al variac e teniamo sotto controllo la caduta sulla resistenza ecco qua un volt 5 quindi comincia a fluire corrente si muove qualcosa però le lampadine ragazzi come vedete hanno degli impulsi di corrente la tensione bassa siamo a circa 200 volt la corrente assorbita non è drammatica 230 volt e abbiamo questo funzionamento con un relè che interviene questo probabilmente normale la cosa carina comunque è che il cortocircuito secondo me non c'è più il relè che abbiamo sentito commutare è questo contatto qua rl1 che si trova in parallelo a questa resistenza che ha la funzione di limitare la corrente di inrush all'accensione ossia all'inizio il condensatore è scarico quindi alla prima carica per non avere una corrente troppo elevata è presente questa resistenza quando poi la tensione sul condensatore questa v rect raggiunge un livello adeguato si chiude il contatto e quindi viene bypassata questa resistenza da 39 ohm 7 watt e il circuito può lavorare il comando di questo contatto si trova in questa parte del circuito infatti abbiamo la v rect tensione sul condensatore che quando raggiunge il livello desiderato abbiamo qui questo lm324 che esegue questa comparazione con questa catena viene finalmente pilotato questo transistor il q1 che va ad azionare appunto il relè per chiudere il contatto ripetiamo questa prova lasciando inserita la resistenza da 22 ohm al posto il fusibile e togliendo le lampadine in serie andremo su con il variac piano piano e nel caso che la corrente schizzi saremo costretti ad andare giù per evitare guai diamo tensione teniamo sott'occhio la tensione sulla resistenza 2 volt comincia a passare corrente ok siamo in quella condizione di indecisione ma siamo 100 volte andiamo su ecco relè sembra essersi stabilito è quindi a questo livello di tensione che è di circa 150 volt 4,4 su 22 ohm ancora una corrente accettabile andiamo su piano piano per vedere se tiene l'alta tensione siamo a 200 volt in ingresso ok 230 volt raggiunti possiamo tornare giù con la tensione di 230 volt applicata la tensione letta sulla resistenza da 22 ohm è di circa 4,4 volt che corrisponde a una corrente di poco più di 200 mili ampere stabile direi quindi che il corto era localizzato proprio sulla parte di di odio di sembra tutto tranquillo posso ora procedere a montare la scheda main in sede e ricollegare le due sezioni di alimentatore prima di richiuderlo un'occhiata veloce alla mainboard notiamo le tre bobine di modo comune che fa parte del filtro e mai in ingresso questo è il magnetico che viene utilizzato in commutazione per creare la alta tensione che poi verrà utilizzata dalle due sezioni di alimentazione i due grossi elettrolitici dopo il raddrizzamento dei diodi e poi abbiamo tutte le connessioni verso la parte frontale che si occupa della gestione delle alimentazioni con tutta la logica in digitale e le due sezioni di potenza che vengono infilate qui a pettine direttamente sui connettori qui a lato posso anche rimuovere la vite che avevo dovuto trapanare perché era rimasta spanata così metteremo una vite nuova come ulteriore isolamento inseriamo questo foglio di nomex che ha caratteristiche di isolamento ottime e anche da un punto di vista termico non ci crea preoccupazioni è fatto proprio apposta ho inserito le clip che mancavano in questi tre punti qui qui e qui con delle max 0 3 n e in questo che un package to 220 ha usato questa tra l'altro è un tema molto delicato perché proprio una di queste clip potrebbe essere stata la causa di tutto il guaio essendo saltata via è andata a finire sotto nella mainboard e ha provocato il primo corto sul lato saldature di uno dei due moduli noto questo condensatore in polipropilene aggiunto fra due terminali che magari è stato aggiunto in fase di trattura e collaudo lo schema del modulo di potenza è molto interessante infatti contiene un amplificatore magnetico partendo dall'alta tensione ht quella che viene generata dalla mainboard abbiamo un po di protezioni e poi questo push pull che è pilotato da questi due transistor mosfet al primario abbiamo quindi un'onda in switching che viene trasferita al secondario di potenza questa è una bobina saturabile e il cuore dell'amplificatore magnetico cioè il transistor pnp fornisce una corrente di polarizzazione per questa bobina e lo tiene in un certo particolare punto della curva bh poi al variare di questa corrente di polarizzazione la bobina ai suoi capi manifesta una tensione che più o meno è lineare quindi l'amplificazione in tensione avviene controllando la corrente magnetizzante di questa bobina saturabile e questo avviene prima della rettificazione infatti subito dopo abbiamo i diodi che provvedono a creare la tensione continua filtro in uscita e come vedete non c'è nient'altro cioè è il magnetico qui che permette la regolazione precisa della tensione in uscita sul canale opto isolatore per la rilettura e altri circuiti sempre di polarizzazione l'altro secondario del trasformatore invece è uno schema classico dove abbiamo il raddrizzamento con diodi un po di filtraggio e due regolatori un 7805 per creare la 5 volt e poi la 15 volt in uscita in realtà è regolata tramite questo transistor e questo diodo zener a riferimento con questo semplice circuito prima di rimontare il modulo di potenza bisogna ricordarsi di collegare i connettori che altrimenti dopo non diventano più accessibili utilizzare delle pinzette altrimenti diventa molto difficile inserire i connettori al momento ho inserito un fusibile 10 ampere 6x30 perché in casa non ho il 15 ampere ritardato che verrebbe richiesto ma tanto adesso faremo delle prove comunque a carichi bassi ho collegato tutta l'unità di sinistra lampadine in serie multimetro sulla tensione in uscita dopo le lampadine diamo tensione lampadine accese piccola corrente assorbita 180 volt la tensione residua dopo le lampadine proviamo ad accendere lo strumento abbiamo il fenomeno di prima c'è da dire che le lampadine sono in serie quindi probabilmente la tensione è troppo bassa proprio perché cade sulle lampadine ma direi che potremmo provare a toglierle questa volta siamo attaccati direttamente alla 230 senza protezioni diamo la 230 ok accendiamo abbiamo un fail però tutto tranquillo ragazzi è tutto tranquillo dunque il guasto grosso che riguarda il diodi che abbiamo trovato sul ponte è stato risolto bene 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 mi sono accorto che il pannello frontale in realtà ha una doppia connessione sulle viti abbiamo sia il filo arancione e nero che arrivano dal modulo di potenza ma anche quello del pannello e quindi adesso svito quelle due viti lì e collego questi due fili e inoltre colleghiamo anche la seconda sezione ho ricablato tutto anche la seconda sezione siamo in questa modalità volante diamo la 230 ok accensione tacchete e vai 0 0 0 0 0 1 sugli amperometri va bene ragazzi sono spariti messaggi di errore e questo porta proprio a pensare che ci siamo d'altro canto il guasto che abbiamo trovato era di quelli bloccanti e sullo stadio d'ingresso e quindi quando succede quello sul ponte raddrizzatore c'è poco da fare tutto il resto viene escluso anzi è uno di quei guasti che fa da vittima si immola ma se non ci sono troppi sbalzi di tensione quando circola la grande corrente di cortocircuito in teoria la parte a valle si salva quando è tutto funzionante in maniera regolare le due unità a display che controllano l'alimentatore mostrano il loro funzionamento con questi led testa al volo per vedere se ci siamo siamo in uno stato di lock quindi devo tenere per muto per togliere il lock ok led si è spento dunque la tensione si dovrebbe sbloccare eccola qua benissimo questa è la gross regulation questa è la fine bene andiamo a fondo scala 59 60 60 al massimo stesso discorso qui lock via tensione e vai anche qua 60 e 60 perfetto facciamo un rapido test in potenza abbiamo delle resistenze corazzate da 22 ohm 150 watt ne metto 3 in parallelo e quindi circa 7 ohm e andiamo su con la tensione abilitiamo l'uscita vai a qua ci deve essere la corrente che è in protezione la sblocchiamo eccola qua infatti sblocchiamo corrente siamo a 12 volt 1 ampere 61 ho sbloccato tutta la corrente andiamo su bene 20 volt 3 ampere siamo 60 watt andiamo pur su 30 volt 4 ampere 120 watt vai 50 volt sempre 300 watt ragazzi siamo quasi al massimo ecco poi 60 volt 8 ampere 480 perfetto torniamo giù ricordiamoci che abbiamo il fusibile da 10 ampere però se vado su una sezione alla volta non ci sono problemi ripetiamo la prova sul canale destro abilitiamo l'uscita andiamo su in tensione dobbiamo sbloccare però anche la corrente anche qui vai 11 volt andiamo al massimo di corrente e adesso alziamo la tensione al massimo ok 40 volt 5 ampere bene 59 8 uguale identico all'altro andiamo giù benissimo in una bustina ho trovato anche i pezzi originali tra cui il fusibile 15 ampere che era saltato queste sono le clip che erano saltate ed effettivamente sono molto deboli e vedete sono tutte spezzate queste fanno forza però oltre un certo limite si spezzano finalmente mi è arrivato il fusibile 6x30 15 ampere 250 volt ora possiamo fare le prove in potenza tirando correnti anche oltre 15 ampere così possiamo fare le prove in potenza alla corrente massima prevista da questo alimentatore per tirare un pochino più di corrente utilizzo il carico elettronico che abbiamo visto nell'ultima puntata in versione 2 per chi fosse interessato ho già mandato in produzione la versione 3 che implementa la modifica con l'ntc se vi ricordate infatti quando abbiamo fatto il test per spegnere in maniera efficiente i mosfet è necessario utilizzare dei bjt inoltre ho anche aggiunto un controllo in ingresso in bassa frequenza con un piccolo mosfet in modo che il carico possa essere pilotato non solo da potenziometro ma anche da remoto impostando una tensione esterna il carico ci permetterà di tirare correnti un pochino più levate rispetto alle resistenze passive che abbiamo abbiamo impostato un livello di corrente massimo di 20 ampere questo è il massimo previsto che ovviamente non può essere tenuto con tutte le tensioni infatti sappiamo che c'è una curva di derating la corrente viene limitata al massimo a 7 ampere quando si arriva alla massima tensione di 60 volt ma con 5 volt possiamo impostarla tranquillamente abilitiamo l'uscita e col potenziometro sblocchiamo il carico elettronico per assorbire sulla 5 volt una bella corrente andiamo su qua siamo a 5 ampere piano piano 10 ampere arriviamo per esempio a 13 ampere ok e lasciamo così per un bel po per vedere come lavora il nostro alimentatore anche come prova di durata dopo un bel po di minuti tutto regolare ripeto la prova anche sulla sezione sinistra ci portiamo su anche qua con la corrente possiamo arrivare tranquillamente a 13 ampere anche 14 ecco qua e e lasciamo così anche in questo caso no problem possiamo disabilitare l'uscita si è conservata anche la taratura di fatti a fine corsa con il potenziometro sia di tensione che di corrente su entrambi i canali abbiamo 60.60 per la tensione 20.20 per la corrente non scordiamoci di collegare anche il cavetto della ventola qui sotto con la giusta polarità e poi anche questa scheda di interfaccia abbiamo usb rs232 lan e gpib quindi la collegheremo nel pannello posteriore e la cosa buffa è che si collega a questi due dissipatori con questa parte di circuito stampato quindi questi vanno un po in temperatura ma la vetronite da questo punto di vista non ha problemi la parte fondamentale di questo alimentatore è la dissipazione termica affidata a questa super silenziosa non mi ero neanche accorto che era partita se però tiro correnti dell'ordine appunto dei 5 10 15 ampere la vediamo andare alla massima velocità aumento la corrente sono a 10 ampere ecco che comincia a girare in maniera sostenuta tutti i controlli principali sono stati fatti e ci siamo dati anche una spiegazione del guasto questo è importante per capire appunto anche l'impatto fortunatamente non ha fatto grossi danni si è fermato semplicemente al lato primario però ecco questo potrebbe essere un aspetto un po critico queste clip normalmente fanno una bella pressione e sono incastrate bene può succedere che se lo strumento viene movimentato capovolto eccetera possano venire via come in questo caso e se vado a finire lì sotto dove abbiamo gli altri semiconduttori possono succedere grandi guai un diodo di solito quando si rompe sul ponte raddrizzatore non muore mai da solo si porta sempre il suo compagno cioè quello che porta poi la corrente indietro infatti l'alternata entra con una fase e deve uscire dall'altra e quindi difficilmente solo un diodo si rompe bene e con questo si conclude il video io ringrazio andrea che ci ha dato l'opportunità di vedere come fatto questo alimentatore della tti ritengo un'ottima costruzione di qualità e affidabile ringrazio voi per aver visto il video fino a questo punto come sempre se vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao